Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne, non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Messaggio del 25 gennaio 1987 Cari figli, vi voglio invitare ad incominciare, da oggi, a vivere una nuova vita. Cari figli, voglio che comprendiate che Dio ha scelto ognuno di voi nel suo piano di salvezza per l'umanità. Voi non potete capire quanto grande sia la vostra persona nel disegno di Dio. Perciò, cari figli, pregate perché nella preghiera comprendiate ciò che poi dovete fare secondo il piano di Dio. Io sono con voi perché possiate realizzare tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nostra, vigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisce, regge e governa a me, che ti fui affidata, dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra di voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Messaggio del 3 ottobre 1985 Cari figli, desidero invitarvi a ringraziare il Dio per tutte le grazie che Egli vi ha dato. Rendete grazie a Dio per tutti i frutti e dateli gloria. Cari figli, imparate ad essere riconoscenti nelle piccole cose e così saprete rendere grazie anche per le cose grandi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Baba etu urie binguni, jina rako ritukuze, Ufarmo wako ufike, utakaro rifanyike duniani kama binguni, utupe leo mkate tua klasiku, utusamehe makosa yetu, kama tunavyo asamehe na sisi wario tukosea. Panem nostrum quotidianum dan obis odie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et nenos indukas intentationem, sed libera nosa malo. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu muona watumburako amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunke etinora mortis nostre. Amen. Atukuze baba na muona na roho mtakatifu. Siku terat in principio et nunke et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Yesu, dimite nobis debita nostra, salva nosa binye inferiori, perdu kinchelum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pronobis. Requiem eternam dona eis domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lumine custodisci, il regge governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Messaggio del 25 maggio 1998 Cari figli, oggi vi invito a prepararvi, attraverso la preghiera e il sacrificio, alla venuta dello Spirito Santo. Figlioli, questo è un tempo di grazia, e per questo vi invito di nuovo a decidervi per Dio Creatore. permettetegli di trasformarvi e di cambiarvi, che il vostro cuore sia pronto ad ascoltare e a vivere tutto ciò che lo Spirito Santo ha nel suo progetto per ognuno di voi. Figlioli, permettete allo Spirito Santo di guidarvi sulla strada della verità e della salvezza verso la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 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 Grazie per aver risposto la mia chiamata. Grazie per aver rispostoει a la vita e la nostra Mobile. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra. Salva nos abigne inferiori. Perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che se il među custode, illumina e custodisci, regge e governa a me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Vergine al cielo. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Messaggio del 12 giugno 1986 Cari figli, oggi vi invito a cominciare a pregare il Rosario con fede viva, così io potrò aiutarvi. Voi, cari figli, desiderate ricevere grazie, ma non pregate. Io non posso aiutarvi, dato che voi non desiderate muovervi. Cari figli, vi invito a pregare il Rosario. Il Rosario sia per voi un impegno da eseguire con gioia. Così comprenderete perché sono da così tanto tempo con voi. desidero insegnarvi a pregare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Panem nostrum quotidianum da nobis sodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc, et in ora mortis nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nostra, vigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il nome che custodisci, regge e governa a me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Vergine. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Messaggio del 19 aprile 1984 Cari figli, abbiate i miei stessi sentimenti. Pregate, pregate, pregate. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Panem nostrum quotidianum da nobis sodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos abigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indicent. Maria, regina pacis, ora pro nobis, requiem eternam, dona eis domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, l'umene custodisci, regge, conferna me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e per la Chiesa. Padre nostro, che se ne cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i vostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo, dono al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen. Eterno riposo, dono al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen. L'eterno riposo da un loro Signore risplenda ad essi e la luce perpetua riposino in pace. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode e non mi custodisci, regge e governa a me che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. A presto. 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 A presto.